Le versioni standard possono montare una trasmissione a 4 o 5 marce con i-low o powershift a 3 stadi. Le versioni TTV sono equipaggiate con una trasmissione a variazione continua a 2 stadi, con passaggi automatici fra le gambe. Guarda che con il mio meccanico si può montare l'inversore idraulico o l'inversore meccanico con leva sotto il volante. Nel TTV l'inversore è di tipo elettroidraulico e si controlla tramite leva o con i pulsanti jolly buttons sul bracciolo MaxCom. Per un comfort maggiore possiamo montare per un ponte sospeso anteriore con ruote indipendenti. Nel mio TTV c'è anche la funzione anti-affossamento e anti-rollio. Nel mio trazzore raggiungo i 40 km orari a 1800 giri motore e risparmi un sacco di car volante. Nel mio a 1650 giri. Nel mio posso frenare, fermarmi e ripartire semplicemente utilizzando i pedali del freno. Nel mio c'è anche la funzione power zero. Forse ti dimentici che il mio, oltre a essere nettamente più carino, è anche molto più leggero e ha un carico utile maggiore.